Ciao ragazze e bentornate sul canale, oggi sono qua con un nuovo video vlog Allora, è mattina, ho già fatto colazione Adesso in realtà devo andare a chiudere la finestra della stanza da letto e rifare il letto E poi ieri in realtà sono andata al Tigotà velocemente a prendere due cose E a Casanova, giusto a fare un giro, abbiamo trovato due cosine utili e interessanti in sconto Quindi ve le mostro E poi ho addobbato per Natale, quindi mi vorrei far vedere velocemente l'albero Anche se non è finito perché ho comprato evidentemente non abbastanza palline e decorazioni Quindi devo provvedere al più presto a trovare un negozio che mi ispiri di più E prendere qualcosina da aggiungere E peraltro ho il puntalo o la stella perché quella che ho comprato non va bene, è troppo piccola Quindi vando alle ciance, vi faccio vedere gli acquistini che ho fatto E poi mi fate sapere se vi piacciono Allora, eccomi qua Praticamente l'altro giorno mi sono pure fatta male un occhio Mentre mi mettevo il collirio, si è staccata la corona e mi è balzata sopra Quella di plastica Quindi ho dovuto correre dall'oculista e mi hanno dato un collirio per rimarginare un po' Aiutare la guarigione Ma mi fa veramente male Cioè brucia e rosso Tutti a me Comunque vi faccio vedere Allora, siamo andati da Casanova Abbiamo trovato questa teglia per fare la pizza E' un 33 cm E dice che va ovviamente solo in forno Lavaggio a mano non va bene nella vostra viglia Ed è anti La vostra viglia è antiaderente Ne abbiamo presa una soltanto Perché non avendo due griglie dove poterla appoggiare Per il momento abbiamo deciso di provarne una E anche vedere se cuoce bene Rispetto a usare la teglia normale da forno come facciamo di solito Eravamo un po' curiosi Quindi l'abbiamo presa Questa mi sembra fosse costata sui 4,50 euro in sconto Poi Abbiamo trovato che è un po' che C'era balzata l'idea Che non so come sia Tagliare con questo Però vedremo Questa qua della tescoma Per fare le crostate 16,50 euro Anche se dice che costerebbe 22,90 E' un 30 di diametro E ha appunto il pezzo che si stacca Dietro appunto fa vedere come si procede Quindi stendendo la pasta e mettendola sopra E non so L'idea è buona Quindi vediamo Speriamo che venga una buona crostata Adesso farò una prova Perché a volte la faccio Non di frutta ma a volte col cioccolato Comunque la nocciolata O la Novi Di frutta a volte la faccio con la marmellata Ma poi c'è tipo Faccio metà mia marmellata E metà il cioccolato Per fare un'equa divisione con il mio ragazzo Che lui mangia solo cioccolato E quindi questi sono gli acquisti Appunto di Casanova C'era pure una tazzina Bellissima da caffè Fatta a dorsetto natalizio Che girata a testa in giù C'era l'orsetto Se la giravate all'altro lato Potevate bere il caffè Era senza il piattino Ovviamente Mi piaceva tantissimo L'avrei comprata Però quando mi ha detto 6,50 euro Mi è passata un po' la voglia Sinceramente Vabbè Per quanto riguarda Tigota Invece siamo andati E ho acquistato Questo che è la prima volta Che lo prendo Ed è un antitarma alimentare Appunto da mettere in cucina In odore dice Fino a due mesi di durata Non so come sia Però siccome abbiamo avuto Problemi di insetti All'interno dei pensili Quando c'è stato l'allagamento E quindi non abbiamo vissuto La casa per parecchi mesi Col caldo Hanno proliferato C'era magari Non so un pacco di farino Della roba Che è rimasta qua dentro E quindi Quando sono andata Poi a pulire tutta la cucina Mi sono ritrovata Insetti ovunque In qualunque pensile Quindi Per evitare Che ce ne siano altri O magari siano rimasti In qualche fessura Ho pensato bene Di comprare questo E vedere di eliminarli Del tutto Per il momento Non ne ho più visti Però Non mi fido molto Quindi sinceramente Questo potrebbe essere Un'ottima cosa Solo che mi sa Che costava Sui 4,90 euro 4,50 euro Insomma Non pochissimo Ce ne sono due Più ne in omaggio Poi ho acquistato Come sia Non mi ricordo Non mi ricordo Se l'avevo già preso Tempo fa Comunque Ne ho presa Una boccettina Poi abbiamo preso Un oral B Questo qua Con l'ottore senza alcol Poi abbiamo preso Questi set profumati Non di che In realtà Ho iniziato tutto da un mobile Comunque sia Per stare anche più tranquilla Ho pensato di prenderlo Anche perché profuma un po' La biancheria E avendo il rivestimento Non va a dare problemi alla pelle Perché è coperto Li avevo già comprati E siccome ho dovuto sostituire Tutti i mobili Adesso li vado a riposizionare Cercavo anche quelli Per l'umidità Quelli che fanno Il contenitore con gel Non li ho trovati Andrò a cercarli Da un'altra parte Tema decorazioni Allora l'armadio L'ho rimontato Adesso ho messo Un po' di decorazioni Di Natale E sono queste qui Che avevo preso Da Primark Non qui in Italia Mi sa Comunque queste Sono molto carine Forse in Polonia Non mi ricordo Forse sì E poi Niente L'armadio Dopo ve lo faccio Magari vedere Come l'ho sistemato Velocemente Poi ragazzi L'albero È questo L'abbiamo preso Al Lidl Costato solo 20 euro Lo volevo innevato E quindi L'ho trovato così Ne avevo visto Un altro su Amazon Che mi piaceva un sacco Ma costava molto di più E poi era anche più grande E alla fine Abbiamo optato Per questo qua E le decorazioni Che vi ho già mostrato Nel video precedente Di acquisti Ve le faccio rivedere Velocemente Ci sono questi Fiocchi di neve E poi Le palline Che si stanno Come colorazione Avevo preso Le glitterate Con il set Argentato E opaco Poi queste decorazioni Che abbiamo preso Nei viaggi Questa pure L'ho presa In un viaggio E Questa qua pure Non mi ricordo Questa è recente Che vi ho fatto vedere Questa pure In friuli Un gufetto E questo pennacchio Che è apparso Non so da dove Si è uscito E le palline Le altre palline Che avevo preso Il set Quello oro E rosso Che sono quelle Un pochino più grandi Che ho messo più giù Però Non mi convince Come è disposto Cioè Vedo l'oro E rosso qua Che sta bene Però poi sale E c'è questo colore E c'è questo colore chiaro Che Non mi convince Appieno Boh Non lo so Devo capire un attimino Magari aggiungo Del dettaglio Rossi E oro sopra Per mischiare un po' Il tutto Vediamo E qui c'è questa decorazione Sempre di Happy Casa E qua dietro Vabbè Non c'entra niente Sto colore Ma l'avevo fatto qualche anno Fai un fiocchettino Che avevo fatto io L'ho poggiato lì Per adesso E Il collegno di cedro Il cuoricino Con i nostri nomi Manca Appunto Il puntale O C'è o meglio Una stella Che non va bene Quella che ho preso E poi vedremo Di aggiungere qualcosa Perché i rami Sono tanti Ed effettivamente Manca ancora Un po' Di roba Dietro Completamente spoglio Lo sistemo Sotto c'è il copropiedi Che abbiamo preso A 3 ore 50 E il primo pacchettino Fatemi sapere Se vi piace E Se avete qualche consiglio Da darmi Con i colori Delle palline Ecco Vorrei iniziare Ad aggiungere Anche qualche dettaglio Tipo queste cosine Qua in legno Magari potrebbero stare bene E Vediamo Allora Praticamente oggi Avrei l'intenzione Di fare Una torta Di arance Quelle arance Spremute Perché Utilizzo il succo Per fare Una ciambella Chiamiamola così Dai Perché Abbiamo comprato Tantissime arance Molte sono in frigo Quindi non so Dove metterle Va bene Che le spremo Però Più di 4 al giorno Non è che Ne faccio Quindi oggi Probabilmente Farò quella Nel pomeriggio Magari Se la faccio Vi faccio vedere E E nulla Adesso Vado a preparare Cioè a fare il letto Così sistemo di là E poi Vediamo il da farsi Letto fatto Più o meno Velocemente Giunco ora il caos Ma arriverò anche là E L'armadio montato Finalmente L'abbiamo rimontato Questo weekend E la su c'è Codizionatore Nuovo Perché si era rotto E Allora Velocemente Guardate come Ho sistemato Vabbè Niente di che Perché In realtà Non ho finito Mancano ancora un sacco Di vestiti Da portare in qua Qui ho fatto il reparto Autunno-inverno E come al solito Qui Nei cestoni I cassettoni Ho messo le felpe I pantaloni Jeans Leggings Tute Da stare anche a casa Reparto montagna E pigiami Che ne mancano un sacco Quindi questo è ancora Da finire di sistemare Poi Lassù Vabbè Lassù non c'è niente Se non quello là Con dentro Non mi ricordo Una coperta estiva E di qua È praticamente vuoto Il reparto Primavera-estate Perché Manca tutto Devo portarlo Quindi c'è pochissima roba Ma andrò anche a sistemare Quando quest'altro weekend Vado C'anzi Questo weekend Vado dai miei E porto in qua Gli altri vestiti E poi ho sistemato Anche il reparto Più o meno Lenzuola Qui Dove Ho dato una Barella Igenizzata I ripiani Molte lenzuola Si sono un po' Stropicciate Però pazienza E qua Queste sono le decorazioni Natale Che ho preso poi Da non moltissimo Ma mi piacciono tanto Allora ragazze Praticamente Ho il Capucinatore Della macchinetta nuova Che non va Quando Faccio partire il latte Soffia aria Bollente Quindi fa una gran fumana E non mi fa la schiuma Come se fosse otturato Intasato E probabilmente Il problema deriva Da questo pezzo Penso Perché comunque Io L'ho lavato bene E più volte Si a mano Che lavastoviglie Ma Continua a darmi Questo problema Peraltro Si era incagliato Qualche settimana fa Questo pulsante Quindi Penso sia da sostituire Questo E devo contattare L'assistenza Perché in garanzia Ovviamente L'ho presa da poco E vediamo cosa mi dicono Poi vado a svuotare Le cialde E a sciacquare qua Così Mi metto avanti Con l'assistenza Perché devo chiedere Informazioni Allora Vado a dare una bella passata Di mocio Alla camera Che ne ha bisogno E Dovrei fare anche Zona giorno Però c'è un po' di casino C'è lo stendino in mezzo Adesso vediamo Finito di passare Lo straccio In tutti i pavimenti Adesso aspetto due secondi Che finisce di asciugare E poi dopo Fra poco Porto Chloe A fare la sua passeggiatina E il suo pranzo Che deve mangiare Vero? Chi cia? Allora Sono andata a buttare La spazzatura Giusto l'organico Perché non Non lo lascio Ritirare qui sotto casa Ma lo porto sempre io Quando ne ho in necessità E poi Stato a prendere un po' di pane Giù al pianificio Ho preso Panini di soia I nostri preferiti E una schiacciatina Rosmarino Quindi dopo Quando apparecchio Metto tutto in ordine E niente I pavimenti Li ho puliti Adesso Ormai devo cucinare Quindi Questo è il quanto Poi mi sono dedicata Anche A contattare L'Espresso Per l'assistenza Ma non ho risolto Granché Mi hanno detto Di provare A lavare Il capucinatore In acqua calda Per due ore E poi dicono Che non c'è il pezzo Cioè tipo Per mandarmi Quello nuovo Non ce l'hanno disponibile Ho chiamato pure Il negozio dove L'ho acquistata Perché non l'ho preso Nella boutique N'Espresso Ma al Media World Mi hanno detto Che devo prima Far riferimento A N'Espresso E poi eventualmente Richiamare loro Comunque non lo so Vediamo un po' Il da farsi Dato che l'ho acquistata A marzo Spero che mi faccia Insomma Che faccia un'assistenza Poi per il difetto Che ha L'ho apparecchiato Adesso vado a preparare Oggi faccio in realtà Un ragù di carne Questo di chianina Che abbiamo preso Del Conad E poi vado A sbollentare Delle carotine Che ho lavato E là Che ormai non sono Proprio stupende E così le mangiamo L'esse E fra un po' Metto sulla pasta E quindi dai Oggi faccio anche Abbastanza veloce Ieri invece ho fatto Un sughetto Di salsicce E pomodori freschi Quindi era molto più buono Forse che Io in realtà ho mangiato La pasta di ceci Non quel sughetto Però Ho preparato anche Un menù Di salsiccia Molto buono Ho ricevuto oggi Questa piantina Mi è stata portata Proprio a pranzo Quindi non me l'aspettavo L'ho messa qua Al posto dell'Erica Che ormai è secca E niente In questo vasetto Molto autunnale Abbiamo preso Un po' di tempo fa E ho finito Di sistemare La cucina Ecco Ragazzi Allora Mi sono fatta Una doccia al volo Mi sono lavati i capelli Non ho piastrato niente Perché Lascio al naturale Anche se sono un po' Sbossi Allora Adesso vorrei Andare a portare giù Chloe Fare una breve Passeggiata Poi non so dopo Se devo andare Un attimo In centro In farmacia A prendere una cosa Ma non per me Nel caso Vediamo E poi Vorrei fare La ciambella Di arancia E spremere Anche Le arancia Forse fare Un succo Succo di arancia Per il pomeriggio Per merenda Però C'è un però Ho attaccato L'asciugatrice Adesso Quindi Non so se Tiene la luce Col forno Penso di sì Però Non sono mai certa Fino all'ultimo Anche perché Avendo tutto a luce A volte parte Lo scaldabagno E quindi Sono tre cose insieme Ora Mi metto all'opera Cioè o meglio Porto giù Chloe Poi dopo Procedo con La ciambella Dai Chloe Allora ragazze Mentre stavo Preparando La scorza Dell'arancia Mi sono anche Fatta male Per fortuna Niente di grave Ma Mi sono un attimo Cagata sotto Allora Partiamo subito Per fare questa ricetta Ci vogliono Il succo De due arance E la scorza Sedibile In questo caso Mi sono accorta Poi che non lo era Quindi non l'ho messa Ho grattugiato Per nulla Mi sono fatta pure male Poi servono Quattro uova Io ho questa Delle mie galline Poi serve Olio di semi Questo qua 150 ml Poi lo zucchero Che ne va 200 grammi E la farina Che ce ne vuole 350 grammi E poi serve il lievito Il lievito Io utilizzo questo Della pane angeli E nulla Adesso vado a mettere Tutto quanto Nella ciotola E con questo Vado a miscelare Il tutto Quindi partiamo Metto le uova Voilà Sugar E' una ricetta Molto veloce Perché va tutto Insieme Quindi si fa Molto presto Questo è del Tiger E mi trovo Stra bene A fare i dolci E inizio Prima a mischiare Un po' questo Poi per ultimo Metto la farina E lievita Ok Ora andiamo a mettere La farina Del Tenino Prima di finire Di mescolarlo Metto anche il lievito Che è meglio Perché così Diventa molto densa Il lievito Lo Lo voglio setacciare Perché poi fa i grumi Lo so già Quindi Lo andiamo a mettere qui Fa sempre Le palline Durissime E non Quando faccio Anche le ciambelle Di mele Faccio molta fatica Poi a togliere I grumi Quindi qua dentro Vedete che è grosso Lo vado a Passare Con questo Povero dito Mi fa già male Beh È bloccata La balla Non è troppo duro Anche per lui Vediamo se Riparce Sì dai Fra mezz'ora Ho finito Allora Ve lo Lo finisco Di mettere Questa è la consistenza Della ciambella Adesso La vado a mettere Nella teglia Ho derato Questa teglia Con la carta sotto Incastrata Così non devo Mettere la farina E ora Vado a stendere Un po' Il composto Tanto è denso Quindi Riesco a Farlo scendere bene Una spatolina Di chea Che adoro Molto easy E poi anche Molto Molto buona Ora vado a spremere Pure delle arance Da bere Così per merenda Perché Ci sta È andata Tena tante Faccio una spremotina Ecco Poi la cuocio In forno A 180 gradi Poi dipende Dal forno Comunque Già 20-25 minuti Vado a controllare Dipende un po' Dal vostro forno Ora accendo il forno Ora accendo il forno E quando è pronta Ve la faccio vedere Come viene Eccoci qua Con Il ciambellone Sfornato All'arancia Adesso devo aspettare Adesso devo aspettare solo Che si raffreddi Per poi aprire la guarnizione La cerniera Perché altrimenti si rompe E ve la volevo giusto mostrare Comunque è super soffice E si è alzata anche molto bene E niente Questa è la tortina Di oggi Sono molto soddisfatta Niente ragazzi Poi ho provato a spremere Le altre arance Che avevo Ma quelle che Ha comprato Insomma il mio ragazzo Erano probabilmente Un'onda spremuta Perché non hanno fatto succo Ne ho fatte quattro Ed è venuto Mezzo bicchiere scarso Quindi non vanno bene E noi non le mangiamo Le facciamo solo così Altrimenti Rimangono Insomma Adesso vedo Se darne un po' I miei genitori Perché queste Non sono adatte a noi E aveva preso Una rete gigante Ne ho approfittato oggi Per farle Però è andata così Comunque Se la Il ciambella vi è piaciuta Fatemelo sapere Con un bel like E se l'andrete a fare Anche voi Iscrivetevi Mi raccomando Al canale Per non perdervi Tutti i prossimi video Spero che questo video Vi abbia tenuto compagnia Vi saluto Perché Chloe Mi sta già Reclamando Per la cena Anche se In anticipo E nulla A presto E nulla